Ciao ragazze e ciao ragazzi bentornati sul canale Oggi nuovo video di campagna 6 di Avon in vigore per tutto il mese di gennaio 2022 Prima di partire con il catalogo vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale se vi fa piacere Se non vi fa piacere attenti alle scale Allora partiamo subito Con ogni prodotto acquistato da questo catalogo potete avere il kit a 10 euro composto da 5 prodotti Crema mani all'olio di cocco, bagno schiuma, scrub piedi, profumo celebre, deodorante per le ascelle celebre Poi abbiamo il contorno occhi Questo è uscito mi sembra un anno fa, un anno e mezzo fa a 15,99 e sono 20 ml per 2 Qui abbiamo la crema da giorno illuminante, infatti contiene dei brillantini che vanno a illuminare lo sguardo E il gel da notte che aiuta a allenire con fiori e discromie a lungo andare Poi abbiamo l'altro contorno occhi della linea Enew Lifting Questo qui è storico da tantissimo tempo Sono sempre 10 ml per 2 La crema va applicata nella valle lacrimale, quindi qui sotto Nella parte sottostante il contorno occhi E va ad ammorbidire, va a idratare, a nutrire Perché contiene peptidi e anche derivati dall'olio di cocco Quindi è anche molto ammorbidente Per questo periodo secondo me è indicatissimo Mentre il gel va applicato nell'arcata sopraccigliare Va applicato e lasciato asciugare e lascia un effetto tensore Ovviamente con l'uso continuato Non potete pensare che un prodotto faccia effetto al primo utilizzo Bisogna essere costanti Qui abbiamo tutta la linea alla cannabis sativa Quindi crema, lipstick, olio detergente, balsamo mani e corpo L'elisir per le labbra, il siero Poi abbiamo la linea Avon Essence Con molte materie prime di origine vegetale E delle profumazioni da spa Sarebbe la linea un po' più da spa Poi abbiamo i Bubble Bat 2 a 9 euro da mezzo litro Qui ci sono tutte le profumazioni E io le amo praticamente quasi tutte Tranne qualcuno Ma devo dire che Bubble Bat per me sono una garanzia da più di 20 anni Io li compro da quando andavo alle superiori Vi parlo del 2000-2001 E sono sempre buonissimi Lavano benissimo Lasciano delle fragranze buonissime Sia sulla pelle che nel bagno Fanno tanta schiuma Si sciacquano benissimo Non irritano Io mi trovo sempre benissimo Ma so anni che li compro Poi qui abbiamo La tinta labbra Ultracolor a 6,99 Poi abbiamo il mascara volumizzante Avon True a 6,99 Non riesco a girare pagine Come vedete sto impigiamato E con la giacca di pile Perché fa un freddo cane Siamo sicuramente sotto lo 0 Poi abbiamo pennello e fondotinta Il kit a 16,99 O l'1 I prezzi li vedete qui sotto 9,99 Il pennello E il fondotinta 8,99 Se li volete prendere singoli Poi abbiamo Due smalti a scelta 5,90 Qui ci sono tutti i colori Sono gli smalti gel shine Quelli che lasciano una finitura In gel Quindi Simil ricostruzione delle unghie Poi matite per sopracciglia E diciamo matita modellante Per sopracciglia Queste hanno la punta tagliata Per essere più precisi Soprattutto nell'arcata sopraccigliare Nella parte sottostante Poi abbiamo il primer per il mascara Che va ad aumentare l'efficacia Di ogni mascara Che applicate sopra a questo qui Che contiene anche degli oli rigeneranti Per le ciglia Poi abbiamo i primer A partire da 8,99 Questo è il Magix Penso sia quello classico Se non sbaglio Sì questo è il Magix C'è da tantissimi anni È buonissimo E lascia una finitura Assetosa E asciutta Questo invece è quello Idratante per pelli secche Questo è quello Per pelli grasse Va ad opacizzare la pelle Io tra tutti Ho provato soltanto Questo qui Che tra l'altro Ha anche un SPF 20 Quindi Magari mezza stagione O anche d'estate Potrebbe sostituire Uno step Della crema Con il filtro solare Quindi andate ad alleggerire Un po' Le texture sul viso Qui abbiamo Il rossetto Ultra Creamy A 5,99 E qui abbiamo Tutta la gamma Dei colori Spero che li riusciate A vedere benissimo Altri rossetti Ultra Matte Power Stay Matte Legend Questi sono bellissimi Molto pigmentati Spero che vediate Anche qui i colori Perché c'è la Ring Light Che mi fa un po' Di riflesso Poi abbiamo Le tinte labbra Matite labbra Sì Tinte labbra Tutta la gamma Delle tinte labbra Matte Shimmer Poi abbiamo Le Le mogliente labbra Con un Leggerissimo Colore Diciamo Rimane Poco coprente Ecco Due pezzi A 9 euro Ok Sempre i rossetti In matita Tutta la linea Dei mascara Questo è amatissimo Da molte persone Allo scopolino Con le setole Di silicone Va a volumizzare Va a incurvare Va a separare Le ciglia Almeno questo È quello che ho sentito Dire da molte persone Poi abbiamo Le matite Ombretti 3,99 Luna Luna E due a scelta 5,90 Qui abbiamo Temperini Accessori Matite Ombretto Eyeliner A 7,99 Poi abbiamo Delle matite Ombretti La palette Ombretti A 16,99 E il pennello A 5,99 Questa palette Contiene Colori Sia Matte Che shimmer Quindi shimmer Sarebbero Metallici Ecco Brillanti Le famose Fantastiche Pinsette Che ormai Chiunque Le ha provate Dei miei clienti Non riesce a più Farne a me Non riesce più A farne a meno Stasera Non riesco a parlare Compreso Me stesso Infatti In questo ordine Ne ho presa Un'altra confezione Perché ho sempre paura Di Che magari Cadano E si Vanno a A deformare E non strappano più Però io devo dire Che ce l'ho da due anni E funzionano benissimo Da sempre Qui abbiamo anche Delle altre matite Sopracciglia Con colori Che vanno Dal cenere Al castano Altri prodotti Sopracciglia Palette Per le sopracciglia Qui abbiamo Fondotinta Cremoso Finitura In polvere Fondotinta Power Stay Ideal Flawless Questo è il fondotinta In Che ha anche Un trattamento All'interno Anti-age Vediamo qua Se si vedono bene I codici E i colori Qui abbiamo I correttori Compatti E liquidi I bronzer 1390 Pennello E Terra Poi abbiamo I blush In crema I prodotti Abronzanti Queste qui Sono delle gocce Che vanno a dare Luminosità E vanno a dare Un colorito Un po' più Ecco Abbronzato Al viso Sempre I primer Questa è la cipria Compatta Gli smalti 2,99 L'1 Gel Shine Sempre Due smalti A 5,90 Questi sono Degli smalti Shimmer Brillantinati Che vanno Dall'argento Oro E bronzo Questo è un asciugatore Rapido Per lo smalto Va applicato Una volta messo Lo smalto E lo smalto Asciuga In 60 secondi Penna Per cuticole Penna Vabbè Stick Per cuticole Penna Correttiva Per pulire I bordi Nel caso In cui Nell'applicazione Sbavate Un po' Sulla pelle Questa va A pulire In maniera Molto precisa Leva smalto Poi abbiamo Altri pennelli Il lava pennelli E il piegaciglia I trucchi Della linea Inu Primer Per le labbra Che non è altro Che un burro cacao Praticamente C'è un lip balm A 9,99 Con alfa idrossi acidi Quindi con acido glicolico Ritesturizzano le labbra Quindi vanno a dare Un leggero effetto Esfoliante Questi sono tutti Io li chiamo I burro cacao Perché so vecchio Sono gli emollienti Labbra Ecco I trucchi Della linea Colorstrand Sempre trucchi Della linea Colorstrand Correttore Cipria Matite Occhi Primer Per le ciglia Qui abbiamo Tutta la linea E i nuovi mini kit Quindi c'è Il siero Da 10 ml La crema A giorno e notte 15 e 15 E l'acqua Micellare A 16,99 L'uno Qui Prima Mettevano Contorno occhi Di ogni linea Detergente Di ogni linea E crema A giorno e crema Notte Di ogni linea Però Siccome hanno tolto Da qualche anno I detergenti Ogni linea Di Enew Aveva il suo Detergente Con caratteristiche Diverse L'uno dall'altro Il mio preferito È il Reversalist Perché era proprio Una spuma Detergente E spero Lo rimettano In catalogo Spero proprio Qui abbiamo Crema giorno e crema Notte A 17,99 Luna Linea Enew Ultimate Reversalist Poi abbiamo I kit Con crema giorno E crema notte E il contorno occhi Quello di cui vi parlavo Prima Emolliente Secondo me Perfetto Per l'inverno E i campioncini In omaggio Per ogni prodotto Acquistato Della linea Enew Da pagina 72 A Scusate Da 73 A 87 Siero A retinolo Questo Ho i campioni Ancora non Riesco a utilizzarlo Perché ho i campioni Nello sgabbuzzino In un cassetto E tutte le volte Mi scordo Di dirarli fuori Poi abbiamo Il gel detergente Al carbone Questo era Sì Col carbone L'acqua micellare Il tonico Massimizzatore Di luminosità Con vitamina C Acido glicolico Questo non l'ho provato Se lo avete provato Fatemi sapere Ho sentito Dei pareri Molto Entusiasti C Entusiasti Di questo prodotto Qui Sempre i kit Con la crema Alla vitamina D Il siero Alla vitamina C E le sfogliante Caldo Sono dei kit Vedete vi danno Anche la scatolina Insieme E anche per questi prodotti Riceverete Quattro campioni In omaggio Che dovrebbe Dovrebbe essere Siero a retinolo Siero alla vitamina C Crema alla vitamina D E il nuovo siero Che è uscito Due o tre campagne fa Qui abbiamo tutte le linee Come vedete E qui abbiamo il mio siero Fantastico E amatissimo Quello Che contiene Due derivati Della vitamina C E acido salicilico Questo è proprio Una bomba Lo uso da anni E quando smetto Di utilizzarlo La differenza Si vede Poi abbiamo Una linea di stilleri Gel da notte Detergente struccante In burro Una sorta di Take the day off Di clinique E questo è il siero Poi abbiamo No aspetta Questo è il siero E lì sirviso Si vabbè Il siero Questo è il siero Che è suonato qua Ah Siri fa tutto da sola Impazzita Siri Lo shot di vitamina C Va miscelato al momento Al siero O alla crema Crema da giorno Se non sbaglio Si SPF 25 Questa è la Tutta la linea Per pelli In Per donne in menopausa Se non sbaglio Aspetta Fatemi leggere Perché è uscita Talmente tanta roba Che non mi ricordo No Per pelle secca La linea allenitiva Ok Forse ho sbagliato Vabbè Poi abbiamo qui La linea Ageless Siero trifasico Gel da notte Crema da giorno La meravigliosa E fantastica Mousse Detergente Io ho usato Entrambe queste qui Mi trovo benissimo Perché sono delicate Molto delicate Schiumogene Lavano benissimo Non irritano gli occhi Si sciacquano Con facilità E Soprattutto Non mi irritano Assolutamente La pelle Due prodotti Il primo a prezzo Diciamo In questo prezzo Che vedete Il secondo A 3,99 Poi Maschera in foglio Spray Una sorta di mist Quindi va applicata A modi tonico Andrebbe Applicata Dopo il tonico Ma si può utilizzare Anche come tonico Le creme Da giorno Con SPF 20 BB cream Con SPF Oddio 10 15 No Mi sa che queste Non ce l'hanno SPF No Queste no Poi abbiamo La linea per pelli Acneiche Mia sorella Ha preso Entrambe le saponette O forse Una delle due Non mi ricordo Quando le proverà Mi farò Dire come si è trovata Poi Il detergente Fantastico Questo lo sto utilizzando Ve ne parlerò Nei prossimi terminati Che pubblicherò Anche qui La mousse Detergente Buonissima E questi sono Di patch Che vanno applicati Sulla singola Imperfezione Lasciati lì Di solito Si tengono La notte E in otto ore Va a Asciugare L'imperfezione Perché contiene Acido salicilico Ed estratti Botanici Poi abbiamo E partono i profumi Far away rebel Diva A 16 E 99 Qui ci sono Tutte le caratteristiche Le note Diciamo così Del Dei profumi In questione Questo è uno speziato Agrumato E Legnoso Questo è un floreale Poi abbiamo Maxima E maxim Sono Praticamente Illustrate Le piramidi Olfattive Ecco Molto carino Questo Molto carina Questa idea Vi fa rendere Un po' conto Di cosa c'è All'interno Del profumo Rare gold Vabbè Non ne potrete più Ma io ve lo ripeto È un floreale Molto pulento Fortissimo Elegante Di classe Anche questo È molto buono Ma tra i due Io preferisco Questo qui Poi abbiamo Tutta la linea Dei today Il profumo In crema Scusate Il profumo Solido today La crema Money today Poi tutti i far away Qui abbiamo Il far away Beyond Con il 50 ml Più il 10 ml A 20 E 99 Incandescence Anche di questo Vi ho parlato In un video Dei miei profumi Avon Abbiamo i mari Di nuovo I mari Lo mettono E lo tolgono Ogni 4 5 anni Io l'ho provato Due o tre anni fa Perché avevo sentito dire Che poteva essere Poteva essere indicato Anche per un uomo In realtà Si ha qualche nota Un po' agrumata Ma a me Ha una nota Di fondo Che Non Non mi piace C'è qualcosa nel fondo Che mi Mi proprio disturba Adesso Non so Cosa Non è il bergamotto Non è la vaniglia E qualche altra nota Adesso Non so Questo invece È i mari ruggia Nuovo Assomiglia All'imari classico Ma con un carattere Un po' più floreale Poi abbiamo qui Il soft mask Vabbè Deodorante e profumo A 11,99 Questo è un must Di Avon Mi sembra che Risalga Al 1981 82 89 Una cosa del genere E ha il classico profumo Che profuma Di pulito Di saponetta Qui tutte le creme corpo E gli spray profumati Per il corpo I profumi Della linea Eevee Per Saif Fantastico Poi abbiamo Tre profumi A scelta A 39 euro Quindi Potete scegliere Tre di queste fragranze Qui Uguali o diverse Quindi potete scegliere Di prendere 3 Avon Luminata 3 Rare Pearls 3 Far Away Glamour 3 Avon Attraction Da uomo Questo no Da donna Credo sia No no Per lui Questo è una bomba Quindi magari Potete Non so Prendere Tre profumi Uguali o diversi E farvi regali Con 13 euro Perché 39 diviso 3 So 13 euro Con 39 euro Vi fate tre bei regali Ma belli proprio Qui abbiamo i profumi Da uomo Segno Segno buonissimo Un orientale Legnoso Fantastico Tutti gli spray Profumati per il corpo Detergenti Corpo E capelli Qui tutti gli shampoo Della linea Advanced Techniques Sono dei 400 ml Qui abbiamo sempre I prodotti Advanced Techniques Poi abbiamo Ultimate Shine Un spray trattante Non so se è quello Bifasico Ce n'era uno Bifasico Che io ho ancora No è questo qua Quello bifasico Questo è un Trattamento illuminante Quindi va A accendere I riflessi Sui capelli Shampoo secco Fantastico Ne ho parlato Tantissimo Trattamento nutriente Da 100 ml Le spazzole Avon Naturals Shampoo Da 700 ml Maschera E spray Profumato per capelli Qui abbiamo Ralina Planet Spa Al Carbone Al Burro di Carité Questa c'è da tantissimi anni Non la tolgono mai Perché a parte il profumo Che è proprio Una Cioè Goduria Allucinante Sa di latte e caffè Sa tipo di galatina Al caffè Cioè Non potete capi che è Poi abbiamo Ralina per i piedi Alla noce Alla nocciola E cacao Questa penso Che la prenderò Sempre prodotti Per i piedi Accessori Per piedi E unghie Prodotti Per Modellare Il corpo Deodoranti Per le ascelle La linea nuova Al melograno Vediamo qua Come profuma Buona Ha un profumo Fresco E fruttato Molto Molto Buono Succoso Creme corpo Creme mani Io ne avevo prese Non sto scherzando Di queste qui Alla mandorla Ne avevo prese 20 L'anno scorso Me ne sono rimaste Due o tre Quindi penso Che devo fare Scorta Forse proverò Anche questo qui All'olio di macadamia Mia sorella Ha provato questa E ce n'è andata In fissa Mi è piaciuta tantissimo Infatti l'ha riordinata Tutte le creme corpo Qui abbiamo i prodotti Igenizzanti Solari Doposole E autoabbronzanti Prodotti uomo Questo è l'accessorio Per tagliare i peli Nel naso Sopracciglia Qui abbiamo Gel Detergenti E aftershave Qui le acque profumate Buonissime Qui abbiamo Le ballistiche Che sono Quelle bombe Frizzanti Da mettere In vasca Da bagno Questi invece Sono dei prodotti Molto nutrienti Per il corpo Vanno a Detergere In maniera Molto delicata E lasciano Anche un'idratazione Poi abbiamo Qui Gli Onsensis A partire Da 2 euro E 50 Questo è una bomba Cioè questo Ragazzi Non potete capire Penso che L'abbiate provato Un po' tutti Perché La Bubble Bat Addict Non ce l'ho Storio Ma ce l'hanno Tutti Questo è La Ciliegia Buono Molto buono E fruttato Questo sa Proprio di Amarena Buonissimo Prodotti per i bambini Spray Sciogli Noti Bustine Per fare Regali Set Avon Far away Eau de parfum Lozione Corpo Ci hanno cambiato Il pack Infatti Ha un pack Diverso E lo spray Da borsetta Da 10 ml Poi abbiamo Tutti i Cofanetti Con le fragranze Abbinate Al profumo Mini size Crema corpo Questi sono Da uomo Questo è Da uomo Abbiamo tutti I kit Già Fatti Poi abbiamo I bijoux Iwatch Pigiami Prodotti per i bimbi Intimo Intimo Ecco le taglie Non so se riuscirà a vedere Penso di sì Borsette Pigiami Calzini Maglie Abbigliamento Questi sono i prodotti In esaurimento Scorte Credo No Sono prodotti Solamente scontati Al 50 60 Per cento Bijoux Carinissimi Per fare Qualche regalo Di natale Ah ma mi sa Che questo È il catalogo Di gennaio Vabbè Qualche regalo Di natale In ritardo Va Abbigliamento Abbigliamento Insomma Prodotti Per la casa Accessori Per Il fit Fitness Pigiami Fracranze Ambiente Io ho Fresh Cotton Che l'ho finita Ve ne parlerò Le candele Mi sono arrivate Ho preso queste qui Erano terminate Me le hanno mandate Finalmente Lampone Prosecco Vediamo questa Ecco questa Candela Non so se voi Avete mai provato Il bubble Butt Alla fragola Alla fragola O era fragola E guava O fragola È praticamente Identico Almeno da qui Questa Mi ispira Proprio tanto Poi abbiamo Tutti gli altri Prodotti Super scontati E le matite Occhi Bene ragazzi Questo è tutto Spero che il video Vi sia piaciuto Vi sia stato utile Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao